Ciao a tutti, oggi un video speciale, infatti come vedete davanti a me ci sono dei libri, infatti andremo ad analizzare e vi andrò a presentare dei testi che io ho letto sull'agricoltura naturale. Sono delle realtà che raccontano appunto delle loro tecniche e anche degli agronomi che raccontano e vi spiegano un po' come fare l'orto, come fare il vostro giardino, come creare la vostra azienda agricola oppure anche come dirigere in una direzione un po' in generale, diciamolo, senza però esagerare la vostra vita. A parte lì la pannocchia e l'aglione che sono per fare un po' di quadretto, mi scuso che non siamo nell'orto ma fa un caldo boia e c'è una quantità di zanzare che mi porterebbero via di peso e quindi andiamoci subito a vedere il primo libro, ha il link se posso, se youtube me lo permette, ve li lascio qui in descrizione. Naturalmente seguite il video fino alla fine e ve lo dividerò in capitoli in modo da trovare ogni capitolo un libro e la sua spiegazione e un pochino la sua presentazione. Naturalmente questo libro non è sponsorizzato né dagli autori né dalle case editrici, però mi fa molto piacere presentarveli e consigliarveli per la vostra istruzione e per anche passare il tempo in qualche spiaggia in Sardegna dove andrete a fare in vacanza oppure nel vostro ufficio caloroso mentre state finendo gli ultimi lavori estivi. Partiamo dal primo, cercherò di riassumere il più possibile anche perché sono tanti, coltivare Bioconsoccesso di Jean-Martin Fortier che è un francese che attraverso vari anni di esperienza in tutto il mondo ha fondato la sua azienda agricola nel Quebec in Canada e ha fatto le sue pubblicazioni in varie lingue e questa qua in italiano racconta un pochino tutta la sua storia nella quale lui ha scoperto questa nuova metodologia di coltivazione molto intensiva, infatti biointensivo racconta in modo molto tecnico anche tutte le tecniche e tutte le lavorazioni che lui va a fare nel suo orto e nel mercato appunto, orticolo americano in questo caso. Infatti il primo capitolo è avere successo in orticoltura e spiega perché coltivare in prode lavorabili a mano senza l'utilizzo di grandi trattori e utilizzando solo piccoli motocoltivatori per lavorazioni molto superficiali. Poi qua andiamo sempre più nello specifico, anche attraverso tabelle, nella vendita di ortaggi e lui fa vedere anche tutti i dati, ora in questo caso sono i dati del Quebec in cui lui va per esempio a scrivere le vendite totali, il prezzo al chilo, il numero di aiuole per stagione quindi sono le prode che lui ha costruito e poi andiamo nel pratico e incomincia a dettarvi un pochino come trovare il terreno giusto sistemarlo, progettarlo e riuscire a calcolare appunto il grado di fertilità gestire l'acqua, il vento e il sole e tutte quelle componenti che sono essenziali per una produzione abbondante e anche per guadagnarci da un punto di vista anche di introiti in questo caso ci fa vedere anche tutti i suoi appezzamenti e ci spiega anche come riuscire a vendere e quali sono gli ortaggi più vendibili nel caso appunto del Quebec o anche nell'Italia è un libro molto bello da leggere anche se sei un piccolo agricoltore perché ti propone attraverso delle bellissime un po' complicate all'inizio ma poi quando uno le capisce sono perfette tabelle di rotazioni, consociazioni e anche varietà di ortaggi che potrete andare a coltivare nel vostro orto per produrre tanto in poca superficie infatti ci va a spiegare consociazioni per esempio carote con piante di pisello in modo da che le leguminose aiutino le carote che occupano lo stesso spazio le seminiere, i trattamenti e tutti i metodi di imballaggio e anche un po' vendita di tutte le nostre culture alla fine ci sono delle schede tecniche di ortaggi che più coltivano loro broccoli, barbabietole, carote con tutte le lavorazioni, quelli che generano più profitto e quelli che necessitano di più core e così via vengono consigliati anche molti attrezzi che vi vengono anche poi consigliati alla fine del libro e vi faccio vedere solo qualche foto si chiama Les Jardins della Grilinette non so il francese, spero sia così e questo è come il suo orto naturalmente fa le lavorazioni profonde solo con la Grilinette e queste appunto sono le sue immagini è un libro molto bello, ve lo consiglio e appunto vi introdurrà un pochino all'orto molto più produttivo mantenendolo sempre naturale in un modo leggermente più impostato più tecnico e un pochino mettendovi nell'idea dei così chiamati market gardeners passiamo al prossimo Abbondanza Miracolosa è la storia di due ragazzi con mille metri quadri appunto come dice due contadini abbastanza cibo per sfamare il mondo è la storia di questa coppia che decide di andare in delle terre molto povere proprio sul confine vicino al canale della Manica molto sassose e molto poco fertili infatti sempre utilizzate come pascoli e trasformarle come vedete dalla foto in un paradiso terrestre sembra ci sono storie provenienti da tutto il mondo dai loro viaggi e un po' dalla comunità che hanno creato attraverso anche tutte le problematiche legislative tutti i problemi appunto della nascita di questo metodo che non era mai stato utilizzato prima di ora loro trasformano il loro luogo producendo in mille metri quadri lavorando a mano utilizzando solo in casi estremi il cavallo come forza motrice producendo abbastanza cibo da sfamare appunto come dice lo slogan mezzo mondo ma in realtà ci sfamano almeno tre famiglie più vendite esterne a un mercato e più per i ristoranti parlano anche dell'importanza della qualità degli alimenti attraverso i loro nutrienti e le loro tecniche anche gestite attraverso tecniche nell'orto mandala nell'orto pieno di laghetti come la progettazione della permacultura soprattutto può essere utilizzata per rigenerare e ricreare un profitto da un suolo che sembrava quasi povero e non produttivo sono 334 pagine di una storia di una vita di due persone che fanno qualcosa appunto di miracoloso ve lo consiglio passando subito al prossimo vi dico questo qua è la cosa più bella al mondo introduzione alla permacultura introduzione alla permacultura è un manuale completo scritto da due australiani di come riuscire a progettare dal punto di vista agricolo sociale economico e anche dal punto di vista un po' casalingo tutti i nostri luoghi e i nostri paesaggi come sia la nostra casa il nostro giardino oppure la nostra landa desolata che abbiamo comprato parte un pochino dall'introduzione dai principi della permacultura che non è una tecnica agricola come vi dicevo è una tecnica anche di studio di come tutti gli elementi naturali si relazionano tra loro e lì incominci a scoprire in modo molto intenso infatti ci vuole tanto a leggerlo principi sia energetici planetari o come vogliamo chiamarli o come li volete chiamare voi attraverso poi anche tutte le i pro e i contro che possono portare per esempio un animale per esempio qua viene illustrato cosa può portare di profitto un animale e cosa invece li dobbiamo dare per appunto renderlo profittabile infatti ci sono le analisi funzionali per esempio in questo caso della gallina ci sono la spiegazione di un attimino della divisione di zone nei nostri nella nostra casa nel nostro giardino per esempio c'è la zona 1 che è un uso molto intenso la zona che dobbiamo andarci tutti i giorni e in tutti i momenti in cui c'è l'orto le aromatiche che ci servono per cucinare e la casa la seconda zona invece ci sono gli animali i cereali per esempio e anche il pollaio o anche piccoli frutti dove dobbiamo andare più raramente invece la terza zona e anche la quarta zona ci sono i pascoli le foreste e i boschi tutto questo manuale andrà avanti per tantissimi capitoli passando da sistemi di riscaldamento dei luoghi protezione del vento del sole contro gli incendi e contro le alluvioni sono cose molto pratiche che possono essere adattate sia in un luogo enorme sia nel vostro piccolo orto dei metodi come per esempio di creare delle barriere di verde o delle barriere di legno per evitare incendi quale varietà di piante utilizzano meno o più nutrienti e quale varietà di piante in questo esempio qui troviamo la profondità delle radici e quanto le piante riescono a lavorare il suolo al posto di un normalissimo aratro andando avanti troviamo anche come raccogliere l'acqua piovana in tutti i modi e come gestirla attraverso pozzi e cisterne e poi arriviamo alla parte della casa una casa che naturalmente è molto più complicata dal punto di vista architettonico e anche dal punto di vista un po' delle piante di cosa c'è dentro per esempio dal punto di vista appunto del riscaldamento o del raffreddamento facendo passare correnti di aria oppure utilizzando l'acqua piovana per annaffiare le piante all'interno di una veranda all'interno della nostra casa o anche come gestire l'ombra per far surriscaldare meglio il tetto e anche tantissime altre cose andiamo anche nella parte più orticola come gestire tutte le rotazioni e le cose che ci vengono spiegate in qualsiasi altro libro ma qua vengono spiegate in modo pratico essenziale e senza anche incastonare un po' la tecnica orticola per esempio nella biodinamica o nel biologico o nel biointensivo è una tecnica molto ampia che poi potremmo adattare alle nostre esigenze io ve lo consiglio apertamente costa un po' tanto per qualcuno ma secondo me lo potete trovare anche in biblioteca e ve lo consiglio perché alla fine ci sono anche tutte le piante menzionate nel libro che sono fantastiche anche da scoprire anche solo per curiosità rispetto alle funzionalità delle loro piante e vi consiglio apertamente di leggerlo mi spiace essermi dilungato un po' troppo ma secondo me era importantissimo quindi se volete progettare il vostro luogo domestico questo qua è da leggere questi libri li ho proposti anche un anno fa in un altro video ma non l'hanno visto in tante persone comunque ne volevo aggiungere alcuni quindi ne sto riproponendo appunto i soliti e altri in più in questo caso l'ho già riproposto l'altro anno che è orto biodinamico familiare coltivare piccoli spazi secondo natura anche questo è un libro interessantissimo molto semplice dal punto di vista delle tecniche orticoli che vengono elencati verso la metà e poi verso la fine del libro ma all'inizio vengono elencati tutti i principi dell'agricoltura biodinamica in modo molto semplice non vengono spiegate tutti i procedimenti per la preparazione dei preparati qua per esempio non vengono elencati come prepararli ma vengono elencate le loro funzioni quali sono le qualità del suolo dell'aria quali sono le energie planetarie che vanno a influenzare sia con la luna e con tutte le cose che ci stanno attorno le nostre piante il compost e tutte le cose annesse come avvengono i sovesci come avvengono tutti i sistemi di crescita e di germinazione delle piante comunque qua vi consiglia tante cose e oltre che a gestire la parte dal punto di vista seminativo quindi tutte le tecniche per poter seminare per esempio i letti caldi o i semenzai a cielo aperto o i vasetti in tutti i modi tutte le lavorazioni tutti i trapianti e tutti i modi per far crescere al meglio le nostre piante anche distaccandoci un attimino dai preparati biodinamici qua ci sono tutte consociazioni e rotazioni controllo di erbe spontanee di parassiti attraverso metodi naturalissimi piccole parti poi filosofiche e poi ci sono le schede secondo me fatte molto bene rispetto alla coltivazione di una trentina di ortaggi quindi aglio anguria e così via andando per tutte le piante che vi vanno a dire le lavorazioni quando vanno fatte secondo il calendario biodinamico tutte le semine tutti i trapianti e le cure culturali da fare sia in agricoltura normale che in agricoltura biodinamica lo consiglio apertamente e se volete andare più nello specifico c'è il manuale pratico di agricoltura biodinamica dove vi dicono proprio come andare a preparare i vostri preparati che sia il 500k cioè il cornoretami 507 che è valeriana e tanti altri per attivare tutti quei processi microbiologici che tanto vengono un po' contestati dagli scienziati appunto di oggi e anche per scoprire un po' questo mondo un po' nascosto e in certi casi anche un po' censurato andiamo a un piccolo capolavoro che è la rivoluzione del figlio di paglia di Masanobu Fukuoka ok ho azzeccato il nome comunque questo qua è un libro non nuovissimo perché è stato scritto un bel po' di anni fa da questo giapponese che attraverso tecniche di agricoltura un po' fuori dal normale è riuscito in Giappone a cibare molte famiglie e a produrre prodotti con un qualitativo e anche quantitativo molto ingente infatti lui è andato a coltivare il riso per la prima volta senza l'utilizzo di un allagamento costante dei campi è andato a creare tecniche di semina in modo da non lavorare il terreno infatti è un pochino il riassunto della viene chiamata l'agricoltura del non fare infatti lui seminava faceva queste palle di semi miste argille le lanciava nel campo e esse appunto l'argilla trattenendo molta acqua germinavano e impedivano anche che gli uccelli andassero a mangiare i semi appunto vedendoli sotterrati nel terreno che in realtà poi nei campi normali andavano a lavorare lui è stato un agronomo e ha studiato molto su questo argomento però a un certo punto si è distaccato da un po' da tutta l'agricoltura convenzionale giapponese e è riuscito a creare un sistema sia di pacciamatura sia di disposizione degli ortaggi molto utile anche per chi vuole incominciare a scoprire un po' tutti gli argomenti e un po' la sensazione tutti gli argomenti e un po' i metodi di coltivazione senza acqua senza concimi e senza nulla appunto l'agricoltura del non fare un libro che consiglio a tutti i piccoli agricoltori che vogliono prodursi il proprio cibo casalingo per sé farci le proprie conserve e i propri piatti in casa vi consiglio questo libro scritto da who richards che è uno youtuber che fa video bellissimi su youtube vi consiglio di andarlo a cercare intitolato il giardino autosufficiente questo libro è in inglese quindi se non sapete l'inglese vi fate aiutare da qualcuno anche perché la versione italiana non c'è però vi illustra come nei video ma qui in molto più particolare e anche abbondanza trick e piccoli trucchi per far crescere di più le vostre piante produrre di più all'interno di un piccolissimo spazio su letti rialzati o anche non creando letti caldi mini serre autocostruite creando grandi abbondanze di ortaggi facendo un orto bellissimo dal punto di vista visivo e anche produttivo e anche nutritivo e troverete anche insieme all'altro autore con cui ha scritto il libro tutti i preparati di cucina tisane e conserve che potrete utilizzare a vostro avviso e come volete voi quindi vi illustra anche mese per mese cosa lui va a fare in questo caso lui è inglese però potrete trasformarlo facilmente al clima italiano naturalmente lui è molto umido quindi le piante saranno sempre rigogliose però lì qua si trovano tecniche e piccoli trick che nella vita di tutti i giorni servono e che vi aiuteranno moltissimo nel vostro orto io naturalmente non sto pubblicizzando questi libri ve li consiglio e starà a voi leggere le recensioni e comprarli a vostro avviso disgraziatamente non ho abbastanza iscritti per essere sponsorizzato comunque mi raccomando se ti è piaciuto il video lascia un bel mi piace commenta e iscriviti così speriamo che qualcuno mi caghi e mi consigli qualche libro da proporre a voi seguitori di ricordo seguitori come si dice non so credo sia l'ultimo libro che vi voglio consigliare è agricoltura organica rigenerativa fatta da un agronomo che vi illustra oltre dal punto di vista qualitativo del suolo come analizzare il vostro suolo instaurare una biodiversità maggiore di nutrienti e sostanza organica all'interno di esso vi va a spiegare una tecnica molto bella che si intitola la cromatografia che è una tecnica di analisi quantitativa per immagini che permette poi di indagare nella reale fertilità del suolo attraverso queste immagini potremo andare a vedere come realmente il suolo reagisce a stress oppure dal punto di vista della fertilità l'ha utilizzato anche molto Rudolf Steiner anche in agricoltura biodinamica viene molto proposto e in seguito in questo libro ci sono tutti i mezzi un po' che vengono utilizzati in aziende agricole questo qua è un video è un scusate un libro molto più tecnico e tutte le lavorazioni che uno va a fare in aziende più grandi e anche più ampie però arrivando a un punto oltre a parlare di soveci che sono importantissimi di apporto di materia organica da parte dell'uomo o anche come funzionano le masse vegetali anche rispetto all'apporto di nutrienti o non o di gas dell'atmosfera o di sostanze nel terreno e anche parlano delle micorrize che tra un poco ci farò un video e qui ci sarà anche un metodo molto famoso e anche molto utile K-Line sono queste linee disposte lungo i versanti per esempio nelle colline molto in discesa che vanno a distribuire l'acqua in modo più equilibrato e evitare l'erosione appunto di questi terreni vengono fatte queste lavorazioni superficiali da un ripper da quei denti non so come si chiamano quei che graffiano il terreno in modo da incanalare l'acqua verso i versanti che di solito sono molto più asciutti rispetto alla valle della collina da distinguersi col metodo delle swales che invece sono delle curve sono delle appunto dei fossi disposti sulle curve di rivello che invece lì vanno a accumulare acqua per far crescere le piante in posti desertici poi parlano tutte le cover crops quindi le culture di copertura è un pochino dei creatori di questo metodo ve lo consiglio è molto tecnico se fra qualche anno dopo qualche anno esperienza di orto ve lo volete leggere è molto utile per concludere non so quanti minuti stia adorando questo video spero poi in post produzione di tagliarlo un attimino perché sennò poi viene troppo lungo e comunque l'ultimo libro è un libro molto meno tecnico molto più carino scritto da un italiano l'incredibile viaggio delle piante che racconta di alcune piante come il cocco o piante come il tiglio che a giro per il mondo si sono spostate si sono emigrate o per esempio nel caso di alcuni alberi sono riuscite a resistere stando a poca distanza per esempio dal punto di esplosione della bomba di Fukushima quindi è un libro molto interessante e vi consiglio anche di leggere perché è molto carino vi fa scoprire nuove varietà di piante e anche come vengono e viaggiano attraverso tutti i continenti ve lo consiglio perché è molto carino da leggere e in un momento di tranquillità su una spiaggia bella bianca con un mare bello blu e con un venticello discretamente fresco io vi auguro una buonissima estate non so se ci rivedremo presto perché anch'io boi in vacanza e non so fai video per voi meno male mi raccomando lascia un bel mi piace se vuoi supportare il canale mi raccomando lascia un grazie lo trovi qua sotto puoi fare una piccola donazione per supportare direttamente e in modo potente il mio canale io vi saluto ci vediamo in un prossimo video e buone pannocchie a tutti perché buone pannocchie e buone pannocchie